Andrea Bocelli a Capri visita Villa San Michele e a sorpresa si accomoda al piano e interpreta l'Ave Maria di Schubert. L'esibizione è avvenuta nella cappella dotata di un'eccezionale acustica davanti a pochi fortunati. L'esibizione è avvenuta nella cappella dotata di un'eccezionale. L'esibizione è avvenuta nella cappella dotata di un'eccezionale acustica davanti a pochi fortunati. L'esibizione è avvenuta nella cappella dotata di un'eccezionale acustica davanti a pochi fortunati. L'esibizione è avvenuta nella cappella dotata di un'eccezionale acustica davanti a pochi fortunati. L'esibizione è avvenuta nella cappella dotata di un'eccezionale acustica davanti a pochi fortunati. L'esibizione è avvenuta nella cappella dotata di un'eccezionale acustica davanti a pochi fortunati a pochi fortunati. L'esibizione è avvenuta nella cappella dotata di un'eccezionale acustica davanti a pochi fortunati.